Pronti? Allora La vedo molto molto complicata oggi Eh, questo è tosto vero È tosto vero Allora Eh, ho fatto troppo tardi Allora Qua la vedo veramente molto Cerchiamo di fare le cose con molta calma Io pensavo che Questo non avesse tutti sti poteri Sinceramente, ma evidentemente Ma perché poi non riesco a parargli mezzo colpo? Mamma mia Niente, vabbè, questo C'ha una potenza che non ho mai visto in nessun personaggio di sto gioco Oh Dai, dai, dai Con molta calma si fa Quei colpi lì non li riusciamo a bloccare neanche sotto tortura Vieni, vieni Vieni, vieni 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 Vabbè, quando inizia Con le spatate folli Non c'è veramente soluzione Ma non gli sto levando una mazza poi E' pochissimo alla volta gli levo Non è veramente minimamente giusta sta cosa A Geralt Eh, che cazzarola Niente, vabbè Ma come ha fatto? Da dietro? Ah, è pure infame È pure infame Che mi lancia la sabbia Allora Cerchiamo di fare le cose con molta calma Niente È pazzesco È veramente pazzesco È veramente Maledetto Vabbè Vabbè Non c'è verso di parare Non c'è veramente verso di parare mai Ah A voi Morì Siamo A metà vita adesso Dopo un quarto d'ora Che Iemenamo Allora Non si riesce Non si riesce Mamma mia Uh Che rischio Pensavo che sarebbe stato leggermente più facile Fare questa Questa sfida Visto che Abbiamo tipo Cominciato a testa A giocare Ma Oh L'unico modo è È bloccargli Quell'affondo Che fa Oh Dai 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 È rognosissimo Come personaggio Veramente Niente Vabbè Mi ha Mi ha Mi ha Mi ha Mi ha Mi ha veramente Violentato Qua Oh Dai Geralt Dai Intanto ma che poteri C'ha questo Che fa Ste Calma 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 Dai Dai Che ci ho preso la mano Ce la possiamo fare Ce la possiamo fare Para Qualsiasi cosa faccio A meno che non riesca A contrattaccare Ecco Mi è finito lo scudo Nel momento Nel momento Clu Mi era finito Dai Che ci siamo quasi Su Si può fare Ah Ho lisciato Miseramente Dovremmo farcela Teoricamente Ah Eh Che cazzo Però Mi sto dando pure fuoco Da solo Aiuto Ma il bello è che io Paro le cose Ma non vengono parate Oh Dai Cazzarola Manca Due colpi Mancheranno Su Dai Che l'abbiamo fatto Ma quanto è tosto Poi Ma veramente So So sconvolto Da quanto è tosto Oh Ce l'abbiamo fatta Miracolo Ah Ah ecco Proprio Proprio Alla burina Così Vabbè Immortale Se fassi Versi Madonna mia Ma che schifo Ma che cazzo Una delle scene Più angoscianti Di sempre Dio santissimo Mamma mia Che roba Io voglio scoprire il segreto di quello E farlo mio Gli ho staccato il collo E' come se non gli avessi fatto niente Boh E quindi sei immortale E quindi sei immortale? Depende dal tuo comprensione del termine In realtà Non posso essere morto Ma non è tutto quello che immaginano Non morire Non significa eternally vivere la tua vita Quindi è una cursa? Una cursa? No Non si chiamano così Eh infatti Riconosci il marchio Ma bene Meh Ah ecco Godwilling Gippo Ma come? Olgier si tratta di sbagliare il peggio Prima si tratta di uccidere Poi si tratta di uccidere Poi si tratta di che questo sarebbe troppo semplice Quindi invece Si tratta di un prensa per una vita basa E un corpus di toad Ma si tratta di sbagliare E si tratta di finire Assistente di che? Io non sto veramente capendo per quale cavolo di motivo Devo sottostare a questa puttanata per un marchio Che io a questo punto mi terrei più che volentieri Ma Quello che voglio io tanto non importa in questi giochi Allora Intanto verifichiamo Vabbè è stato lui su Eh infatti questa è la domanda principe Non c'è la vera di tutto il toad E' un po' di me spesso Ma volevo il moro Non c'era la domanda Non c'era la domanda Non c'era la domanda Ma E' una coincidenza Si Devevo dire che quando tu Un peggio Sì Pensavo C'era È quello che tu stai facendo Poi potevi capire Il peggio Poi E' un po' e poi ancora? perché ti preoccupare? è stato un uomo non era umano questo tipo non riserva di vivere eh infatti preferisco farmi rinvolgere io e Master Mirror il tuo quarrello mi piacerebbe non rinvolgere tu già sei, credo ha fatto qualcosa per te ora hai una pagina per riportare sei vero? sì allora non ti liberi da lui fino a che ti riporti ma non ti preoccupi io deviscerò task così impossibile vabbè, simpatico ma se gli riproviamo a tagliare la testa e la tua pagina dovrà essere assolta mentre io viverei in pazienza fino a che Master Mirror trova un'altra aiutazione credo che devo riportare la domanda direttamente cosa devo fare per te hm mi pensi beh sta per sparare una puttata tipo andiamo sulla luna non ci siamo senza una città potremmo potremmo com'è portare mi la casa di Maximiliano o Sodi questa casa mi sono sorpreso ma perché? mi sono dovuto vivere in un'altra cosa significa questo? seconda scena ma perché non ci si non ci si non ci si non ci si cosa che Vlodimir dovrebbe fare per te se lo vedi no Vlodimir mio fratello c'era un momento che lui stesso stanko a tre giorni ma il montaggio sempre sembrava per una parada oh, non rival Vlodemir per farlo per l'esercizio non c'è tu devi trovare e mostrare il tempo della vita mia seconda domanda ok, sembra facile e il terzo? completare i due e poi parleremo del terzo e vabbè tu dove santo suggerimenti non me ne dà dove troverai te? non lo so come Matt Banders ha planato delle diversioni ma lasciamo dire all'Alchemy in Oxfamfort ok, ci vediamo le prime due richieste non mi sembrano particolarmente complesse immagino che sarà il mio frate non dovrebbe essere troppo difficile ma la casa? ha già portarli non vuole la casa non mi preoccupare la casa il mio frate sarà il difficile ah si? eeeh ah, meno male vabbè vabbè come faccio a portare la mia casa che è la cosa che mi interessa di più non ho capito non ho capito non ho capito non ho capito potremmo a portare non ho capito ma vi potremmo 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 ti scegliere una volta tu oh e abbia più di eh ti pare vabbè dov'è il fratello? Ah ecco, sto contento C'è cos'è? Gerold, Gerold, non c'è un curioso? Assume l'ho di Von Everic e continuare con l'ho. Ma! Gerold, non posso fare tutto per te. Utilisci il cuore. Von Everics sono molto conosciuti in queste parti. Deve essere conosciuto qualcuno che ha parlato della famiglia. Per esempio, il medico. Ah ok, vabbè. Temo che sarà estremamente complesso fare tutto ciò che ci hanno chiesto, ma ci si prova. Vabbè, qua sono tutti ambigui, criptici e misteriosi. Eh, tanto a te che cazzo ti frega, faccio tutto io. Vabbè, dunque parla con Shami della cripta di famiglia dei Von Everic. Io adesso direi un attimino che prima di tutto vediamo le missioni da dover fare. Allora, parla con Shami oppure vai alla casa d'aste dei Borsodi a Oxenfort. Io direi di cominciare con la festa del morto perché mi intriga molto di più. Allora, direi che possiamo cominciare. Ci facciamo un bello spostamento rapido e ci vediamo là. Allora, dopo una lunga camminata finalmente ci siamo. Per cui, adesso direi che ci facciamo questa bella chiacchierata con Shami. Alla... Dov'è l'entrata? Eh, piano di sopra. Ok. Vediamo un po' che ha da dirci. Sperando che si giunga subito alla conclusione. Stava scherzando, genio! Stava scherzando, genio! Cosa c'è sul tuo viso? Longa storia. Ehm... Abbiamo fatto un buon lavoro importante. L'idea si può riuscire dopo. Eh, sì. Certo. Spero di lavorare sull'antidote. Non dovrebbe prendere molto tempo. Ma ma il tibo, c'è... Un numero pesante, questo medico. Non come un scuola a tutto. Si appunto. Ah beh, giustamente. Che uomini di classe. È un buon lavoro. È un buon lavoro. E' un buon lavoro, non? Abbiamo visto che loro facendo uccanere con te. Non come si guarda noi. Non è certo? Admitite! E' lo fanzo? Eh? È molto bella. Su questo siamo d'accordo. E' un buon lavoro. E' troppo vero. Inoltre, te 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 hanno hanno un sensore molto forte. Meno male. Meno male. Bene. Mo potete pure andarvene. Arrivederci. Eh... Dove sei stato in questi anni? Domanda fondamentale. Eh... Dove sei stato in questi anni? Domanda fondamentale. Vi è stato il terapia. Noi siamo in questa cuota, qui ci erano? Hubo stato in Vizima. Eh... 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 È stato giovanni? Come hai già fatto? Eh... Eh... T tailandci Vizima... L'arrivo a Oxenfurti. Prima confermato un del doctorio. Poi usi un忙o. Poi ottenere per la parte. Pochia, la guerra scuola. e ho preso in un corso medico medico. Sì, un classico radovid. Non mi piace, davvero. Ho vivuto a casa da quando la combina si è sottotitata, ho continuato la mia pratica e ho semplicemente trattato l'elpe. Però mi devo sempre essere pronta, per ogni volta che i radovidi non possono rinforzare per l'attività urgente. Ok, mi serve la tua aiuta. Shoshani, ho bisogno di tua aiuta questa volta. Hmm, credo che questo non era un ringrazio sociale. Eh, proprio di sì. Proprio sì. Eh, vabbè, gli raccontiamo tutto, almeno. Allora... Eh, non ci credi, allora. Eh... alcuni soldati di Ophiri, guidati da un mage, mi ha capito. Un uomo chiamato Gontro O'Dim, mi ha liberato. Chi è questo? Eh, non lo so. La risposta più adeguata è non lo so. Non lo so. Non lo so. Magari sapessi bene chi è. Bella domanda. Ecco, renditi utile così usciamo da qui e andiamo a fare qualcosa. Vabbè, nessuno ti ha chiesto niente. Eh... Non lo so, ma non ho alcuni opzioni. Ho bisogno di chiedere questo ghost. Entendo. Qual è il ghost? Allgierd Von Evereck. Von Evereck? Eh... In mio terzo anno a Oxenfurt, abbiamo dovuto chiedere un elective. Le mie opzioni erano... Pearls of Wisdom, da The High Rocks. O... Famili dynastie rhodanian. Ho chiesto l'altro. E quindi? Von Evereck? Von Evereck? Ci avranno un torbido passato alle spalle? Tanto è sempre così. Oh, vedi che alla fine è carina e anche utile. Vabbè, fai come ti pare. Su. L'importante è che se ne esca. Allora, io direi a questo punto che andiamo alla cripta e, come sempre, ci vediamo là. Allora, dopo una lunga camminata, sembra che finalmente ci siamo. Per cui direi di andare all'entrata, se riesco a uscire da questo... Da questa zona alberata, magari liberatemi. Ecco. Ok. Allora. Io pensavo di essere arrivato direttamente all'entrata, ma così non è. Allora, facciamo tutto il giro. Qua è la tenuta da Ivan Evereck. Teoricamente dovremmo riuscire a trovare sto cadavere in maniera piuttosto rapida, teoricamente. Che poi... In The Witcher è tutta grande teoria, ma poi nella pratica, spesso e volentieri, succede l'esatto opposto di ciò che uno in realtà vorrebbe. Però, ormai ci siamo abituati a questo. Per cui... Ma che bordello qua, comunque. Ecco. Allora. Finalmente. Giunti a destinazione. Allora.